Buongiorno a tutti per tutti e per la visione di questa serie con noi, con noi, con noi, con noi una serie sumamente importante che a noi ci si tratta di diversi aspetti del Evangelio Eterno e per me è il punto che ci si arriva nel tema di justificazione per me e di Fè santificazione per me e di Fè con finalmente il nostro 3 settembre Glorificazione Ma per noi per spiegare il tema noi ci si tratta di una serie di B che ci si tratta di confusione per quanto riguarda la naturalezza che Gesù ha fatto se la naturalezza che Adam aveva fatto prima di picare o che dopo di picare noi ci si tratta di picare che con la vita di santo noi ci si tratta di picare che Gesù ha fatto bene o che si tratta di picare che ci si tratta di picare che ci si tratta di picare e la docina di Dio se tratta di picare il Spirito Santo e tratta di picare che ci si tratta di picare che ci si tratta di picare che ci si tratta di picare ci si tratta di picare che ci si tratta di picare che ci si tratta di picare che ci si tratta di picare ci si tratta di picare che ci si tratta di picare ci si tratta di picare ci si tratta di picare del 1 e del 2. Tema 5 Tema 5 Tato Yusper usando Versos e Deidad Tato Kuyu Sì, partiamo in tema numero 0, 1, 2, 3 e tema numero 4. Ok? Tema 6 Mirare con Dio Volver e toccare Outro aspetto della Doctrina della Trinità Versos e Deidad Tema numero 7 Con Espirito Santo Su obra sta Quita su obra con il amore 2. Cane con noi D'in sequenza, non va compito Oc compito a chiare Na metà o metà di a serie Oc non va componder De maniera me senta 2. Chere, plamea turcaminda Boro mandi in Cristo, servidos Stiven, Cristina, maniera va acostumar Ok? Chere, plamele Però d'in sequenza, bom? Con Dio's bencionare Cado un di vostro Take care E bendicione da Bini Di parte di Senor Blessings Boro mandi in Cristo Stiven, Cristina Vin sean Il ductile godi in Cristo Boro mandi in Cristo Sipuri Libero mandi in Cristo Disim